E salve a tutti amici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi un video che avevo già fatto diverso tempo fa Ma essendo che hanno aggiunto diverse cose che non tutti magari sapranno Allora rifaccio una guida per le persone che vogliono magari giocare a escape Ma non sanno come si fa quindi hanno paura e non lo comprano Chi magari l'ha comprato ma ancora non capisce bene E quindi niente sono qui per farvi questa guida Potrei mancare qualcosa eccetera Però non vi dico proprio tutto tutto Vi dico un po' come partire Perché magari non molti sanno come funziona questo menu Allora come funziona questo menu Molta gente pensa anche molti miei amici pensavano Che il Charakter fosse una personalizzazione del personaggio E quindi non ci sono mai andati E non è così perché Charakter Se noi clicchiamo sul Charakter troviamo tutta la nostra roba Tutto il nostro inventario dove noi portiamo le nostre armi Insomma tutto quello che troviamo durante i raid E quindi insomma sappiate che non è insomma per quella roba che tutte le persone Tante persone magari pensano Quindi è tutto il vostro inventario che vi portate dai vostri raid Ora una cosa banalissima Molta gente magari vede delle cose girate Tipo qua tutte le armi girate in questo modo Ma se io le voglio prendere ad esempio Prendo questa e la posso girare in questo modo Come faccio? Quando la trascino basta cliccare R E la mette o verticale o per orizzontale E qua Tutto molto semplice E poi che altro? Cioè diciamo su questa parte non c'è molto da dire Cioè qui c'è E' questo La fine è questo eccetera Mentre poi passiamo da quest'altra parte Dove c'è il punch In questo caso io ho il gamma container Poi c'è l'alpha container E se non mi sbaglio anche il beta container Dipende dalle versioni che avete C'è il backpack Il pocket Il tactical rig E quindi insomma dopo si va a fare Vi faccio vedere insomma una cosa un po' più dimostrativa Per farvi capire altre cose con le armi Eccetera 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 Poi qua sopra vediamo altre barre Dove qua c'è l'overall Ovvero tutto quello che avete praticamente fatto Qua c'è Vi fa vedere l'omino Lo potete girare per vedere quanto è figo Qua c'è il vostro livello Qua statistica Statistica eccetera Qui ritorniamo nella zona di prima Qui c'è la vita del nostro personaggio Qua ci sono le skill Perché per adesso si ci sono queste skill In cui insomma la forza purtroppo c'è la solo livello 2 Però c'è la vita Il metabolismo E ci sono queste cose adesso E poi magari vi farò un video Un po' più dedicato su come Riuscire ad aumentare queste Poi qua si va nella mappa Allora io adesso ho due mappe Ho la custom e la factory Ok E ora vi faccio Magari vi spiego anche come prendere queste mappe E poi c'è la task Ovvero le missioni che abbiamo Qua hanno due completate Ma devo aspettare un secondo per confermarle E qua vi fa vedere tutte quelle che avete Se avete già altri quest'item Eccetera Qua non ho niente Qui c'è quelle attive che devo ancora finire E quindi ritorniamo sul nostro gear E torniamo indietro Qua ritorniamo al menu E andiamo su trading in questo momento Adesso queste due non ci sono nella beta Quindi abbiamo solo quelli classici di sempre C'è Prapor Che cosa vende principalmente Prapor? Munizioni e armi Principalmente munizioni e armi Caricatori I copri I copri polvere Mirini Un po' di cose insomma Anche un po' di attachment E come funzionano qua i trader Qui in alto a destra potete vedere Quanti euro avete Quanti dollari avete E quanti rubli avete E qua c'è il Il livello attuale Del Insomma del vostro venditore E quindi noi siamo a livello 19 Qui con il livello 19 E un massimo di 0,48 Per la sua Fam Insomma Come si chiama Madonna Madonna le cose Che qui Non arrivano Che ci sono in tutti i giochi Però non mi viene in italiano Quindi La La fama Insomma Avete capito cos'è E qui è quanto abbiamo speso E sotto ci dice Per arrivare al livello 4 Che sarebbe la coroncina Dobbiamo essere il livello 29 Avere 0,50 E spenderci 1,6 milione E ricordate Spesi Perché prima Anche se gli vendevi la roba Funzionava anche così Ma adesso l'hanno fixato Qui noi possiamo vendere le cose Ovviamente non tutto E si può vendere Ci sono certe cose Cose che magari lui Ti paga di meno E certe cose che altri Ti pagano di più E voi basta prendere Spostate le cose così Oppure basta tenere premuto CTRL Tasto sinistro E ve le spara direttamente dentro Poi fate deal E le cose ve le vende Ok Ora si va alla terapista E lei principalmente Vende le cure Poi qui la stessa roba Quindi a me manca Da arrivare al livello 20 Per poi sbloccare altre cose Quando voi vedete qua sopra Non i soldi Ma vedete Queste freccette Significa Lo scambio Ovvero lei Vi scambierebbe Un salewa Che è una cura Per una bomboletta Di xeno Che si trova in giro E' piuttosto rara E quindi altre cose Tipo questo per 6 Sigarette Winston Che le chiamo sempre Wilson E qui vedete che ci sono Le due mappe Quindi dalla terapista A livello 1 Si trova la mappa Di factory Mentre la terapista Di livello 2 Vi arriva quella Di custom E poi credo Andando avanti Poi vi danno Vi dà le altre mappe Non l'ho mai portata Più avanti Per ora Poi c'è fence Fence chi sarebbe Fence non si può portare avanti Perché Praticamente diciamo che Fence E' un venditore globale Ovvero Tutta la gente Che vende Le loro cose A fence Fence le rivende Quindi per dire Se io vendo questa zucca Fence la rivende Ok Poi insomma Lui non ha task E si può vendere le cose E basta Le task le trovate Dal prapor Dalla terapista E da skier Per adesso Skier che cosa fa Principalmente Li vende le canne Non le canne Che ci fumiamo Ma queste canne E se anche lui Un po' di attachment Le cuffie Che poi Durante il gioco Vi spiego A che cosa servono E un po' di design Un po' di armi E così via Soprattutto queste sks Perché Vi spiego una cosa Molta gente dice Ma io nel mio sks Che è questo Non ci posso mettere Gli attachment Vedo un sacco di video Dove c'hanno Le mod Le cose E bisogna prendere questo Il Simon V Il Simonov Sì sì il Simon Il Simonov V Simonov V Io lo chiamo Perché ormai Ho iniziato a chiamarlo così Dove Ci si può attaccare Le cose Perché vedete Qui Ora ve la faccio vedere Più da vicino Qua c'è Questa cosettina Che qui Che qua Ci attaccate Tipo il cobra Che è una monta Che gli attaccate Di lato E Ve l'attacca Insomma E Anche lui C'ha Insomma Le 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 Task E a lui Gli potete vendere Principalmente Le cose Che lui Vende Quindi Mirini Insomma Ve li valuta Molto Poi c'è P-Skipper P-Skipper La new entry Della Closed beta Che cosa fa P-Skipper Lui Vende Anche lui Attachment Armi Ma per Dollari Quindi Come vedete Qua ci sono Le m4 Gli mp5 E questa È la cosa Più bella Che si può fare Da lui Perché Per Quattro corpi Di mp154 153 153 Noi si può Prendere Un m4 E quindi Io per ora Ne ho due Quindi insomma Basta farmarne Tanti Andare in giro Con la pistolina E prendere Solo questi mp153 Magari portassi Lo zaino Che ho io Che ne può Mettere dentro 4 o 5 Ora non ricordo E così Voi li farmate E lui Qua vedete C'ha un timer Come tutti Hanno un timer E ogni ora Lui si resetta E vende I dollari Lui vende Praticamente Un dollaro Per 88 Per 88 rubli Quindi praticamente Se io volessi Prendere 2000 rubli Ora no Finirei Un po' I soldi Ne voglio Prendere 1500 E posso prendere 1500 dollari Per 132.000 rubli Infatti ogni tanto Faccio così Per ora Non 1700 Non mi lamento Possiamo comprare Un M4 Per dollari Possiamo comprare Il visore notturno Molto importante Se volete fare Qualche notturna Le cuffie Se non volete Spendere I vostri rubli Da schier Vi prendete Con i dollari E questi mirini Che sono bellissimi Perché questo Fa lo switch Da mirino A lunga distanza A mirino A corta distanza Poi vende Un po' di silenziatore Un po' di cose Eccetera 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 Ok Ora qua Si ritorna Al coso Perché questo È lo zenetto Che vi dicevo Infatti se noi Prendiamo questo Ce ne sarebbe 1, 2, 3, 4 Dentro Più Altri di qui Sono 6 Quindi Non è male Adesso Vi porto In Escape from Tarkov Allora Qui ci sono Due modalità Ok C'è la scav Nella pmc Che non mi sta caricando Io meni Ok bene La scav Che cos'è la scav La scav Sarebbe una modalità Che potete fare Ogni 30 minuti Dove voi entrate Con un equipaggiamento Randomico Scelto dal gioco Quindi Per farvi capire Forse ancora meglio Se voi Andate in pmc Che è la modalità classica Che voi Nel 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 vostro Stash Che abbiamo visto prima Con tutti i vostri oggetti Vi scegliete voi Le cose Con cui portare In questo caso Come io C'ho la m4 C'ho uno zaino grosso C'ho l'alfa rig Quindi se voi andate Con pmc E morite Alla fine Perdete le cose Che vi siete scelto voi Dal vostro stash Quindi Perdete le cose Se invece andate con scav Alla fine È una cosa scelta dal gioco Quindi se voi morite Chi se ne frega Alla fine Se passate Avete preso Siete sempre In Cosa In profitto Se uscite Se invece Cioè se voi Spawnate E uscite direttamente Siete in profitto Questo intendo Se morite Non siete nemmeno In perdita Perché tanto Non è vostra La roba del gioco Ora noi ce ne andiamo In pmc Per farci Una Vi faccio vedere Su custom Così è meglio Le 10 del mattino Cioè le 10 del mattino O 22 di sera Hanno aggiunto questa cosa Dalla closet beta Che prima era O giorno o notte Dove per forza aspettare Qua potete vedere Quanto dura La difficoltà E quanti player Ora Non ci credete Tanto la durata Perché è 50 minuti Per custom Non è 30 Infatti dovrebbero Un po' aggiornare E qua vi dice Anche attualmente Un po' com'è il tempo Quindi noi basta Cliccare next Facciamo enable offline Perché insomma Vi faccio vedere Su offline Potete scendere Se mettere random O attivare il pve Se in questo caso Non andate in offline Fate next Vi va in questa schermata Che voi fate L'insurance Che potete scegliere Se farlo da prapor Se lo fate da prapor Vi ritorna qua Vi dice che vi ritorna O dopo un giorno O dopo un giorno e mezzo Se invece lo fate Dalla terapista Vi ritorna Se lo carica Ok facciamo così Vi ritorna Dopo 12 O 24 ore Ok Ora intanto Faccio insure Ok Una volta fatto Avete speso i vostri Per ora io 15.000 rubli Che alla fine 15.000 rubli È questa pistolina Quindi Ci vuole poco Per fare 15.000 rubli 30.000 Per dire solo L'M4 Con gli attaccamenti Le cose Quindi Insomma Purtroppo qua Non vi dice Che ci sono Eccezioni Ok Perché Come funziona Lensure Se voi morite E nessuno Porta via Le cose Che Insomma Che avete perso Allora Dopo il tempo Che c'è scritto qua Vi ritornano Tramite messaggio E Vi arrivano qua Dove ci sono Queste cose arancioni Voi cliccate qua C'è get E vi rifà la schermata E vi spostate Le vostre cose Nel vostro inventario Quindi È così Non è sicuro E se poi La gente Se lo porta via Vi arriverà un messaggio Che vi dice Che non ce l'hanno fatta Ora Noi ce ne torniamo Indietro Nell'offline Che cos'è L'offline Ora non attivo il pv Perché Attivate il pv E se volete La gente Da ammazzare Cos'è Il L'offline L'offline È una modalità Offline Ovviamente E Tutte le cose Che voi Prendete E se riuscite Ad uscire Non ve le da Anche Cioè Se voi uscite Vedete che vi dà Punto esperienza Ma alla fine Punto esperienza Non ve le da Veramente È tipo Una specie Di Di Cosa Come si chiama Di simulazione Con una specie Di simulazione Ora qua ci si farà Diversi passaggi Ma uploading Altre cose Quindi noi aspettiamo E ci si vede Do Ok Eccoci qua Siamo entrati In gioco Allora Ora vi spiego Un pochettino Di cose Qua ci sono Le macchine Nel senso Andate sul caso Ci sono le macchine Che gli potete aprire Il bagagliaggio Ci potete trovare Delle cose Dentro tipo cibo E lì c'erano Delle munizioni E poi visto Che ormai Ci siamo Vi porto qua In In questo punto Che qua c'è questa macchina Dove dentro ci sono Queste casse Che ci sono i medicinali Allora Io la apro E Visto che non ci sono Gli Gli NPC Per farvi vedere Una cosa Ogni volta Che voi Ammazzate Una persona Vi uscirà Le stesse cose Che avete voi qua Se loro Gli vedete Solo il simbolo Del backpack Dei pocket O qua Dell'affare Del tactical rig Vedete accanto Questa barra Che c'è scritto Unserge Insomma Che non ci avete guardato Dentro Basta Cioè in questo caso Devo cliccare per forza Serge Però basta cliccare Qui sulla Sulla parte qua E vi trova le cose Quindi come vedete Qua vi da un po' Di Di oggetti Allora Ora vi spiego Un po' Tutte le meccaniche Cioè ora Non tutte Un po' Di cose Che vi possono Servire Per iniziare Tanto poi Man mano Le scoprite Allora Se noi Teniamo premuto C C alza E ci abbassa Come in qualsiasi gioco Però per sdraiarsi Bisogna cliccare Z Con E Si guarda A sinistra Con Q Con Q Si guarda A sinistra Con E a destra Madonna Pure I destra e sinistra Sbaglio Allora Se teniamo premuto Alt E T Ci fa vedere Quanti Colpi abbiamo Infatti in basso a destra Ci dice Full Se teniamo premuto Shift E T Ve li dice Quello in canna Vi fa vedere Se avete il colpo in canna Per dire Siete con un fucile A pompa E Pensate di non avere più colpi Invece di aprirli Inventare in questo modo Vi guardate direttamente Con Lo shift T E vi mostra Se ci avete il colpo in canna Se magari riuscite A fare quello Se teniamo Tre Se teniamo premuto Alt E W Ci fa il blind fire Di sopra Quindi Ora non so dove mostrarvelo Ci mettiamo Nascosti Qui dietro Ok La gente non vede la nostra testa Ne facciamo Alt W E possiamo sparare Ok Questo è il blind fire Io mi metto Io mi metto invece Da questa parte Ok Metto da questa parte Teniamo premuto Alt E S Non me lo fa perché E ci fa il blind fire Di lato Ok Quindi molto semplice Adesso quasi tutto si fa Con alt Più le cose Va bene E Ok ci rimettiamo qua Ora Teniamo premuto C E abbassiamo la rotellina E vedete che A sinistra Ci fa vedere Le diverse altezze In cui noi ci abbassiamo Quindi con C Una volta sola È il classico Alzare e abbassarsi Massimo Invece tenuto Premuto Shift C E le rotelle Si ruota La rotellina In su e in giù Vi fa diverse altezze Spero di non star Dimenticando cose Perché potrei Dimenticarmi cose Allora In tutti i giochi C'è che Tenendo premuto Alt Ci muoviamo la visuale Senza muoverla In questo modo Ci guardiamo attorno Qui si fa Tenendo premuto La rotellina Solo in questo modo Però non è che possiamo Andare più indietro Solo in questo modo Lo possiamo fare E Che altro c'è da dire Se io sparo Ok Va bene Poi Ho già finito i colpi Ok Ricarico E le cose Me le mette qua Va bene Ma se tipo io Qui L'avessi Tutto pieno Lui mi butterebbe Il caricatore Per terra E quindi poi Lo devo riprendere Attenzione Non ve lo mette Nello zaino Ma ve lo mette Qui Invece Se qui avete Tutto pieno Ma avete una pistola E qui comunque Avete tutto pieno E avete i pocket liberi Il caricatore Ve lo butta anche Nel pocket Perché Se vedete Io prendo la pistola Che con uno Hanno messo la pistola Quando il solito Si prende Con tre Però se io sparo E poi Ricarico Come vedete Il colpuram Me lo butta qua Perché non ce l'ho pieno Ok Scusate il taglio Ma se insomma Qui era pieno Ve lo spostava Direttamente qua Ora vi mostro Il caricamento Veloce Siete in un combattimento Non avete il tempo Di fare Quest'azione Lenta Allora cosa vi basta fare Voi Aaaaa Prendete Cliccate due volte R Vi butta giù Il caricatore Ricaricate E potete di nuovo Sparare Quindi ecco qua Il caricatore Eppure Madonna Che precisione Ok Ora con B Mettiamo in full out Sempre in basso a destra Degli avvisi Insomma O singolo Ci sono alcune armi Tipo L'MP5 Vi mette anche burst Che burst sarebbe Tre colpi Ok Ora vi parlo Degli attachment Quindi la torcia In questo caso Con T Ok Con T Voi accende la torcia Non con L Come nei classici giochi L di light E con L Invece ci mostra Un po' L'arma Un po' che altro Con Sinceramente non mi ricordo Con che tasto Però Con O In alto a destra Vediamo il tempo Ok Vediamo il tempo Della Del ride Mentre C'era un tasto Che si poteva parlare Ma sinceramente Non me lo ricordo Non so se l'hanno tolto Boh Che si diceva cose a caso Ora Ci sono i gesti Cliccate due volte E vi mostra qua i gesti Comandi da dire Che ce ne sono tanti E qua ci sono i vari gesti Tipo Vaffanculo Ed è a posto Se io invece faccio Tasto destro Posso scegliere dove Quindi io metto F1 In Fuck you No mettiamo Dai mettiamo F1 In salutare F2 In Vaffanculo No dai Mettiamo F2 In fermi F3 In andare E F4 Vieni F5 Ok F6 F7 F7 Quindi io faccio F1 E saluto il compagno F2 E gli dico a tutti quelli dietro Di fermarsi F3 Gli dico Andiamo Andiamo F4 C'è una Andiamo Andiamo con me F5 F5 Di avvangula Azione di merda Azione bravo E ora Vieni ad avvangula A posto Ok Ora Noi qui abbiamo questo mirino Che non si vede bene In un punto Tipo qua Andiamo qui Che non è che si veda bene Questo qui Che forse è un po' più scuro Ok Qua vediamo che noi abbiamo Questo mirino Ok Io ora l'ho L'ho blindato Però se non mi sbaglio Con ctr Con alto E tasto destro Vedete che fa Un movimento strano Vuol dire che ve lo sta cambiando Infatti vedete che ora me l'ha cambiato Io ora l'ho blindato E quindi vedete Con M2 Me lo fa direttamente E io con M1 Guardo il caricatore Quindi non potete farlo In questo modo Cioè Se tenete premuto E lo fate Non potete Se non mi sbaglio Almeno che voi non mettiate La mira Che cliccate una volta E allora ve la lascia Allora credo che potete farlo Quel Quel coso Però Insomma Non tutti Non tutti i mirini Potete fare questo In questo Si E quindi Perfetto Allora 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 Ora andiamo qua Ok Abbiamo il nostro backpack Il nostro pocket Le nostre cose Eccetera Allora Noi qui abbiamo Un Un AI Ok Che cos'è Un AI E basta fare inspect E qua Vi ridà vita E vi leva Le radiazioni Perché poi più avanti Ci saranno le radiazioni Qua vi dice quanto ci mette Per utilizzarlo Allora Voi o aprite l'inventario Da su destro Usa O molto semplicemente Però attenzione Questa cosa la potete fare Solo ed esclusivamente Se avete gli oggetti Nel vostro pocket Insomma Nelle vostre tasche O nel tactical rig Perché io prendo la AI Lo sposto qui Prendo per dire Il car E lo sposto qua Ok Poi prendo Clicco 4 5 Ma ora non sono ferito E Me lo Me lo sistema Qui c'è il gamma container Non so se l'ho detto Prima Spero di si Però tutte le cose qui dentro Se voi morite Non le perdete Quindi Avete il gamma container Volete fare una run Di accetta Per luttare Tante cose Per fare soldi Tante mode Per fare soldi Bene Allora Le mettete qui dentro Vi fate ammazzare In qualche modo E siete a posto Ora Qui Insomma Queste cose le abbiamo già viste Qua c'è Le cuffie Le cuffie Che cosa servono Le cuffie Aspettate Sentite la differenza Di audio Sto un secondo Zitto Ok Avete capito Praticamente Queste cuffie Fanno in modo che Sentite meglio le cose Perché Se io corro Sentite Passi Sono diversi Se io Ho qualcuno Magari Che è qui dietro E Corre Io In questo caso Sento Perfettamente A destra Cioè il rumore Lo sento Lontano Mi giro di qua E il rumore Lo sento davanti Quindi dico Cazzo è lì Per dire Laggiù in fondo C'è gente che spara Ok Però Se non avete le cuffie Vi sentite Tipo magari Che sparano in qua O che magari sparano In là Però voi prendete Con le cuffie Mentre loro sparano Puntate E dove sentite Che l'audio Vi va proprio dritto Allora loro sono lì Quindi insomma Sono molto utili Le cuffie Ok Poi qui C'è il paca Il paca È una Delle tre Dei tre Body armor Nel gioco Che c'è il paca Che ha 60 di vita Massimo Il 3m Che ha 40 di vita Che è nuovo Il 3m E c'è Il B46 Che credo che comunque All'inizio L'avrete Sicuramente Viso Uno molto grosso Ok E allora C'è il Ora vi faccio vedere Almeno queste cose Diverse Vi parlo un secondo Di queste cure Saleua Car Splint Bandage Painkiller Che queste sono le cose Che principalmente Potete trovare Molto semplicemente Ok E E la vasellina Questa È piuttosto rara Ok Allora Il Saleua Inspect Noi possiamo vedere Che vi dà La vita E leva Il sanguinamento Ok La I invece Se ricordate Vi ridà vita E leva invece Le radiazioni Che per adesso Non ci sono Quindi Questo Vi fa solo Questa roba Il car Che cosa fa Vi Vi mette Insomma Vi rimette La vita Vi leva L'intossicazione Vi leva Il Il sanguinamento E Le radiazioni Quindi Intossicazione E radiazioni Forse Le intossicazioni Sono proprio Le intossicazioni Da radiazioni Quindi se siete Stati molto Al Alle radiazioni Come questo Che questo Vi Se vedete Vi Sistema Solo L'esposizione Alle radiazioni Però potete Però potete Prendere L'intossicazione E quindi Con la I Non le curate Dovete Avete bisogno Del car Poi c'è il bandage Classico bandage Basta andare su health Vedete i vari punti Bandage Lo spostate Dove avete Più bisogno Però adesso Adesso il gioco Hanno fatto Un po' Un sistema Che le cose Vi curano Per forza La roba Che ha bisogno Di essere curata Quindi per dire Io c'ho una gamba Che mi sanguina E uno stomaco Che mi sanguina Però magari lo stomaco È messo peggio Della gamba E se io cerco Di fare così Perché voglio curarmi Prima la gamba Non lo posso fare Quindi devo per forza Andare sullo stomaco Lo splint Lo splint È se vi fratturano Una gamba Voi ve lo spostate Sulla gamba O un braccio O qualsiasi punto Fratturato E E Lo 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 sistemate Il painkiller Cos'è il painkiller Quando voi Siete in un combattimento E perdete Completamente La vita Quindi siete a 0 su 65 Per dire In questo caso Prendiamo le gambe Non ve le potete Curare più Quindi Non pensate di usare OAI O queste cose Per curarvi le gambe Da 0 Ritornano in su Perché non si può Una volta che arriva a 0 Avete perso la gamba Quindi iniziate a zoppicare Prendete il painkiller O painkiller O O coso O la morfina E queste due Vi Daranno una Una mano E potete correre Qui vediamo che Comunque c'è L'energia E l'acqua Adesso l'acqua Qui serve molto Insomma L'idratazione Perché possiamo morire Per idratazione E se vi spaccano Lo stomaco Completamente E voi andate Molto giù Velocemente In idratazione Quindi dovete bere Di continuo Perché va molto giù E si può morire E si può morire Anche per disidratazione C'è la vasellina La vasellina è la cosa Più forte Che ci sia Perché vi leva Le fratture Le contusioni Le esposizioni Le radiazioni Il dolore Quindi anche il painkiller Le intussicazioni E il sanguinamento Che è proprio La vasellina È una cosa Fondamentalissima Ora Allora Qui vedete Una cosa molto classica Prendete le cose Zero boom Ce le buttate dentro Ok Molto semplice Allora Qui vediamo Due granate In due punti diversi Perché Possiamo lanciare Le granate Sia se sono Nel tactical rig O nel pocket Se io prendo Qui Spero di non fare un fail Ma non ha mai funzionato Prendo Clicco G E non posso Non posso lanciare La granata Me la metto Nella tasca Prendo E posso lanciare La granata Ok Ci sono tre tipi Di granate diverse Adesso Quindi questa La prendo La metto qua La lancio Scoppia Ok Ora se qua sentite Pam 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 Queste sono le schegge E Le schegge Possono far male Possono uccidere Le schegge Ci sono gli occhiali Che io ora non ho portato Perché avevo Degli occhialini di cazzo Però ci sono Degli occhiali gialli Che sembrano da sciatori Che quelle dovrebbero Proteggere molto Se l'hanno implementato Ora io purtroppo Non ho portato Un saiga Non ho portato un saiga Però vi dico Che con alt E L Vi chiude il calcio In qualsiasi arma Che si può chiudere il calcio Ve lo chiude Però Per adesso Non vi diminuisce Lo spazio Invece più avanti Se chiudete il calcio Vi diminuirà lo spazio Che utilizzerà Che dirvi Io intanto Vi ho fatto vedere Qui la ricarica veloce Che lancia Il caricatore Poi vabbè C'è la ricarica normale B Che insomma Cambia le cose E tutte Le altre robe Magari vi faccio Vedere Delle casse Le casse Quelle più Delle casse Più importanti Cioè io Cioè Diciamo che sono Casse importanti Dai Diciamo che sono casse importanti Molto importanti Perché? Perché in queste casse Ne possiamo trovare Le Le colt Attachment Caricatori Munizioni Eccetera E mentre andiamo lì Spero che Magari sta durando tanto Il video Non lo so Però sicuramente Dura tanto Perché ci sono molte cose Da dire Spero che ve lo stiate Guardando tutto Se volete capire Veramente Perché Sto dicendo cose Un po' Sparse Non le sto dicendo In un ordine Va bene Per questo il video Andrebbe visto tutto Infatti mi sono dimenticato Di farvi vedere Vedete in basso a destra Ci sono quei quadratini E' per la velocità Ok? Voi con la rotellina Senza schiacciare nulla Vi diminuisce lì La velocità Ok? E lì vedete Che ci sono dei punti Grigi Questo significa Che state iniziando Ad avere peso Se avete molto peso Allora si diminuirà Ancora di più Quindi sarete Molto più lenti Ok? Fin qui ci siamo Cliccare Caps E ve lo butta Direttamente su Cliccate i caps E ve lo butta Direttamente su Bene Molto semplice E ecco Queste sono le casse Allora Qua magari vedete Le file in questo modo O Vi faccio vedere Qua le file In quel modo Ok? Però Non Non tutte si possono aprire Solo quelle singole Ok? In questo modo E magari non tutte Anche quelle singole Quindi voi aprite Come tutto Aspettate Che vi vada A cercare la roba Tipo qui ho trovato Un caricatore Un caricatore E un mirino Ok? Allora Visto che abbiamo trovato Un mirino Vi mostro una cosa Io posso cambiare I mirini Anche mentre sono in game Allora O cliccate il tasto destro E fate inspect O basta cliccare due volte Col tasto sinistro E vi apre direttamente Le cose Ok? Allora Io ho qui Il mirino Lo sposto Vedete che ci metto Un po' per levarmelo Va bene? E quindi poi Prendo questo Ce lo metto E ci metto un altro po' Per mettermi il mirino Va bene? E questo è un mirino Classico Se non mi sbaglio Non si può Vedete Il movimento lo fa Ma è sempre uguale Ok? Mentre se io Prendo il coltello Che lo si prende Con la V Clicco due volte E faccio molto velocemente Sposto Infilo E prendo l'arma E ora mi ha attivato Anche il coso E roba molto utile Lo potete fare Se voi avete un caricatore Solo Vi portate un caricatore solo Quindi per dire Oh cazzo Io sono con l'M4 Mi sono dimenticato Un caricatore Perché ho due mirini sopra Guardate che bel bug Mi sono ritrovato Due mirini sopra Aspettate Vediamo se è ancora buggato Sì È ancora stra-buggato Allora lo lascio così Perché comunque Lo vediamo Allora Dicevo Oh cazzo Mi sono portato un caricatore Ah ho finito i colpi Mi nascondo V Due volte Vado a vedere dov'è Prendo Infilo Tac Lo riprendo Invece Se Voglio fare una cosa Che lo voglio tenere in mano Lo prendo Lo sposto via Però Vedete Comunque Lo cosa E qui Ve lo rimette Ora magari l'M4 Un po' più veloce Però Se per dire Lo faccio con la pistolina E Lo cosa La prende Fa un movimento lungo E poi lo dovete rinfilare Fa un altro movimento Cioè È meglio Prendere Prendete il coltello Fate così Tac Ora Perché l'ho perso Tac Ricaricata E poi ho preso l'M4 Ma chi se ne fece Ok Allora Spero fin qui Tutto chiaro Ok Perché Ve l'ho detto Magari mi dimentico Delle cose Che le dico dopo Quindi Eh Ora sappiate che Ogni caricatore Anche un tipo Di Di proiettile Che ci fa dentro Cosa ovvia E Niente Allora Vi spiego una cosa Fate attenzione Quando magari siete con elmetto Body armor Perché magari potete morire subito E dite Oh cazzo Come ho fatto a morire subito Semplice Il body armor E la testa Non è che vi coprono le gambe O le braccia Quindi se vi sparano alle gambe O alle braccia Voi Siete morti Se vi sparano alla testa O al corpo Siete a posto Diciamo Se avete il metto O Body armor Quindi Una cosa che vi consiglio fare Se vedete gente Che magari è super equipata Mirate subito alle gambe Perché Oh Non c'è niente da fare Se a qualcuno spacchi le gambe Alla fine Lui magari si sposta Per missare i colpi Però non ce la fa Perché zoppi Che allora non riesce poi a colpire voi E magari lui vi colpisce al corpo E Ci avete un body armor E ciao L'avete fottuto Quindi Colpire alle gambe Quando uno non ha Un body armor È una tattica molto buona Va bene Allora Qui Che c'è da dire Qui le mappe non ci sono Perché non me le sono portate dietro Ok Vedete comunque qua le task Le gear Le stesse cose di sempre Anche che c'erano Nello stash Ci sono varie porte Varie Macchine anche da quanto pare Insomma Specialmente porte Che si possono aprire solo con Chiavi specifiche Ora quando riesco a Prendere tutte le chiavi Vi faccio Vi mostro Una ad una Che cosa servono Va bene Poi magari Vi faccio una guida Sulle varie quest Devo pensarla Va bene Quindi Ci vorrà del tempo Per farvi certe cose Questo Non è che ci voleva Moltissimo Ok Perché alla fine Le cose che hanno aggiunto Sono state Questo Sono state Questo E Non che Cioè Questo Ma Non è che Cioè Anche questo Non è che ci sia da tanto Vabbè E quindi Niente Ah Forse Vedete Questo qua È quello per parlare Infatti Ecco Eh Prima era un tasto a caso Sulla tastiera Adesso è il Mumble Quindi qui parlate Se siete in scav Siete sempre un bear Il bear è in russo Lose che è quello normale E quindi E quindi va bene così Se mirate Vi diminuisce subito La velocità E Ora Non Non me lo fa Perché forse Ho la skill Alta Però state attenti Quando mirate Perché vi diminuisce La stamina Che è la barra Insomma la classica Barra verde Sotto Lì a sinistra Ve la diminuisce Ora io credo Di avere forza O Altre cose alte Quindi non mi diminuisce Poi vabbè C'è da Tenere conto Che I colpi Ovviamente Se io Ne sparo due Uno è andato dritto L'altro è andato sopra Quindi Cercate sempre Di Sparare Quando vi va giù Poi Eh Ora vedete con singolo Lo fa molto più velocemente Invece se prendete full auto Lo va più alto Quindi Non vi Mettete a sparare in singolo Quando avete full auto Perché non vi conviene Poi potete correre E cambiare In basso a destra Il coso Quindi lo fate anche Correndo Potete farlo subito Non è che dovete per forza aspettare L'animazione E E niente ragazzi Che dirvi Non vi ho fatto una guida Sulle mod Perché ce ne sono Tantissime È semplice Quando siete nell'ustacio Cliccate tasto Sull'arma Vedete modding E lì potete Vedere le diverse mod Non ve l'ho fatto vedere Perché alla fine È una cavolata Quella Ok Vi ho fatto vedere Le cose che servono Di più Mentre si gioca Magari Quindi Ricordatevi Insomma Con E Magari Chi gioca a Remus Ma in molti giochi C'è qui per sporgersi Se cliccate alt E devi fa Vi sporge molto più Ehm Ampliamente Ok Quindi con alt E le cose Andate sicuro Qualcosa vi fa Tipo alt R Mi ricarica Perché ovviamente Ho cliccato R Ok Ok Allora Qui c'è stato Un taglio di audio Perché se no Praticamente Vi parlavo per 20 minuti Di io che vi ringraziavo Eccetera Quindi vi ricordo Domenica 12 Ci sarà il giveaway Sul canale di Twitch Sul canale Twitch Di PugB Per i subscribers Un suo giveaway Luned 13 Ci sarà il mio giveaway Con l'estrazione Sempre sua Il vincitore Insomma Dovrete essere Tutti lì Presenti Se volete partecipare Il vincitore Sarà eletto Da PugB Una volta Fatto ciò Verrete in Discord E vi passerò La chiave Ok Quindi Niente Detto questo Io vi ringrazio Per i 400 iscritti Perché è veramente Veramente Un sogno Magari Per alcuni Non sono tanti Viano quelli che C'hanno mille Milioni Eccetera Però 400 Per me Sono tantissimi Perché Sono tantissimi Insomma Quindi niente In descrizione Trovate tutto Io spero di non essere Mi dimenticato Veramente niente In questi 30-40 minuti Di video Quindi io vi ringrazio Veramente molto E noi ci si vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao